ehi 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 io sono mitociuto25 e oggi siamo qui sul checkpoint 3 e dobbiamo finire questa cazza di mappa what if we jump go no if we go down come si fa a saltare in basso io non lo so guarda bene si muori senti che bel rumore quando fa quando muore mi dà anche soddisfazione così no cazzo perché ho il dito e il pollice che non funziona ho il pollice che non funziona l'unico pollice al mondo che non funziona così così perfetto mo tengo premuto control w e non salta e non salta non salta una minchia non salta non posso prendere la velocità lì su questi blocchettini piccoli ve che sono quelli che mi fanno un po più esaurire ecco guarda cade sotto cade lui che cazzo di cade sotto stai su perché qui posso prendere lo slancio ce la faccio ma qui non ce l'ho slancio ok forse è meglio se faccio il doppio doppia v invece che premere contro mi sa di sì ok così forse col col doppio no perché perché si ferma perché non si ferma quando a terra c'è anche tu dammi la mano ok mi sembra che il doppio v è più semplice no bene moriamo devo fare il 360 quando moriamo e ricordatelo 360 quando muoio tanto c'è lo spazio 360 trickshot questo qui fantastico dovrei andare nella classifica di the face game perché ho fatto un 360 non ci sono nessuno non l'ho fatto vabbè ma guardalo non mi da neanche il tempo di saltare non mi da un salto ok il primo ci viene no non non ce la faccio non ce la faccio a fare il secondo salto è una cosa incredibile guarda allora mettiamoci proprio al bordo siamo fuori siamo secondo me però no cazzo fermati fermati di sopra porco giuda e chi cazzo è cioè sei lì ti devi fermare ok al bordo bene 360 360 amore muore guardate la mano come mi fa quella è una super seca che sta facendo prima di morire ok questo qui l'abbiamo capito che lo so fare bravo non so cosa dire non so cosa dire ce l'ho fatto ce l'ho fatto senza dire niente non faccio di seguito now let's jump special blocks try to jump on this si fidati che io riesco a prenderlo non riesco a prenderlo perché no mi fa saltare scusi come faccio a saltare ma io lo spacco try to jump on this no vabbè non lo saltiamo you can't mo invece ci posso si più piccolino fammelo il buchettino più piccolo gentilmente allora qua ho capito come devo fare così 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 bom ogni tanto perde il cuore qua però non fa niente no cazzo se lo faccio di fretta lo faccio meglio vabbè muore questa è una cosa siamo sempre qua siamo sempre qua è una cosa incredibile no perchè vado indietro perchè non premo shift invece che andare indietro che non ho neanche bisogno della velocità lì eh quelli guarda questo l'avevo fatto 30 volte l'avevo fatto l'ho fatto sempre bene mo arrivo qui e mi si perde la guardalo ok ok qua devo fare con lo shift no troppo shift dato ok e rimuore sempre qua sempre qua oh io provo a fare così premo shift no però quando salto devo lasciare lo shift cazzo cioè dopo che mi fermo devo lasciare lo shift questo ormai ho capito come si fa è una cosa fantastica qua non so perchè perdo la vita però dentro proprio ci sono caduto nel buco ok siamo sul primo sul primo guardate qui quanto ce ne sono 10.000 la ci sono si la ci sono anche le scale da saltare che non sono mai stato capace è morto ma vaffanculo va perchè non l'ha presa adesso c'è ce la fa sempre faccio sempre la stessa storia qui 1 2 e 3 qua si rompe la vita qua devo andare dritto perfetto 1 2 3 4 non mi chiede come sto facendo si possibile va it's a bit narrow tu non ti preoccupare che qui usiamo la ok lo fammi capire quelle ci rompe ok io non vedo più un cazzo non vedo allora aspetta un attimo devo tornare indietro piano uh non lo vedo più non lo vedo no cazzo ci è arrivato perchè perchè mi muore ok l'abbiamo ripresa l'abbiamo ripresa l'abbiamo ripresa questa zona guardate lì dove cazzo mi sta portando io qua però non ho capito come devo fare cioè ma vaffa culo vai vai a fare il culo sempre qua sempre qua sempre qua eh ma come ci arrivo hard right eh sì è molto difficile ma vaffa culo vai stronzo di merda riproviamoci oh io ci riprovo ancora ma devo finire questa mappa e che qui c'è pochissimo spazio però fin qua ci posso arrivare ok cos'è che mi diceva giù difficile eh come ci arrivo la come ci arrivo come ci arrivo bravo bravo testa di cazzo che sei morto è arrivata la notte io non ce la faccio più ho fatto checkpoint 3 noi lo riprendiamo dalla prossima puntata perchè io più di così non so cosa fare cioè veramente ma cos'è questa storia ma qui non possono operare niente mi piace solo suicidarmi moriamo moriamo in bellezza e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao Ciao!